Per dire no al disegno di legge che io definisco una scuola, in realtà i fondi per fare una buona scuola voi li avete tolti, voi li avete messi, se la matematica non è un'opinione, i colleghi di matematica mi possono correggere avete investito 4 alla germinina a pochi occhi, quindi siamo ancora a meno 4 del contratto che è un grande lusso di noi docenti, ne vogliamo parlare, ne vogliamo parlare del contratto bloccato?